Poi ho proseguito interessandomi sia al cinema e anche alla narrativa. A quel punto scoprì che in alcune edicole milanesi c'erano delle pubblicazioni americane di fantascienza in lingua inglese. Io masticavo ancora pochissimo l'inglese, però ho preso queste riviste e riuscivo a leggere le recensioni dei libri, riuscivo a leggere la rubrica della posta, anche se non proprio i racconti o i romanzi. E venne così a sapere molte cose sulla fantascienza, sulla fantascienza che era principalmente americana e che in Italia erano quasi sconosciute. Venne a sapere per esempio che un autore che io ammiravo moltissimo come Ray Bradbury, l'autore di Fahrenheit 451, da cui Truffaut ha tratto un bellissimo film, lui aveva cominciato la sua carriera pubblicando una fanzine, Futuria Fantasia. Fanzine sono queste riviste spatte dagli appassionati, riviste però di poche pagine, 10, 15 pagine vendute in pochissime copie, amatoriamente, non nelle edicole, che circolavano solo tra gli appassionati. E allora mi venne in mente nel 1963 di fare anch'io la prima fanzine italiana, perché in Italia quel termine era sconosciuto e nessuno faceva le fanzine. E così la chiamai in onore di Ray Bradbury, anche la mia fanzine la chiamai Futuria Fantasia, e la inviai a degli appassionati che conoscevo e alla redazione delle varie riviste italiane di fantascienza. Una di queste riviste fu colpita dai testi che io avevo pubblicato su questa fanzine, mi convocò e di lì a poco mi trovai a collaborare con questa rivista che era Galassia, dove pubblicai poi diversi racconti, rubriche, curai recensioni, e praticamente ebbe inizio la mia carriera come scrittore, autore, esperto di fantascienza in Italia, dove ho lavorato per diverse collane, tra cui anche Urania, dove ho fatto anche traduzioni e altre cose di questo tipo, traducendo per esempio racconti di Ballard e di altri scrittori importanti. Grazie a tutti.